La struttura del testo, ad esempio, è fortemente rigorosa. Può essere diviso in quattro parti, in cui la prima parte è composta dalle prime quattro righe, dai primi quattro versetti, ed sono rivolti a Dio, una specie di invocazione iniziale. La seconda parte, che va dal quinto al ventiduesimo versetto, ed è quindi la parte di gran lunga prevalente del testo, è quella vera e propria delle lodi a Dio. Tranne che queste lodi non sono organizzate casualmente, ma in modo molto rigoroso. C'è dapprima la lode ai corpi celesti, la luna e le stelle, quelle più propriamente pertinenti al divino come celestiale, e poi c'è la lode ai quattro elementi canonici, classici, di cui è composta la materia terrestre, l'aria, l'acqua, il fuoco, la terra, uno dopo l'altro. Quindi non è un elenco casuale di elementi, ma c'è la volontà rigorosa di costruire un sistema di valore filosofico universale e perfino scientificamente corretto e completo. La terza parte, poi infine, a partire dal versetto 23, si rivolge all'uomo, introduce in questa scena l'uomo, ed è l'uomo che deve perdonare e sopportare le sofferenze, ed è l'uomo che deve apprezzare la morte come dono estremo di Dio. La quarta e ultima parte, infine, è costituita dagli ultimi due versetti di dedica e di invito e appello alla comunità dei fedeli, perché rispettino i valori che il testo propone.